Il principale Campagnano oggi all'esordio, 22 anni per lo scozzese Armstrong, doppietta al Celtic Park in questa gara di Europa League. Beh, la ricorderà per intanto tempo, ci sono 5 scozzesi in campo questa sera, nel 67 nella finalistica ce n'erano 10, vediamo un po', forse il tocco di Campagnano, forse il tocco di Campagnano. Vediamo ancora una volta, perché è bravo comunque Armstrong, ha guardato i suoi palloni, forse l'ultimo a toccare è quello di...